75 persone controllate, 7 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza, 80 punti decurtati dalle patenti ed infine un mezzo sequestrato. E' questo il bilancio della seconda operazione con il cosiddetto drogometro, il nuovo sistema in dotazione alla polizia stradale in grado di rilevare tracce di stupefacenti nella saliva. Dopo il suo debutto nella notte di Halloween, l'apparecchio è tornato nelle strade della provincia di Arezzo, questa volta in Valdarno durante un'operazione che ha impegnato le battuglie di San Giovanni Valdarno, Arezzo, Montepulciano e Montevarchi dalla mezzanotte di sabato fino alle 6 del mattino della domenica in via Poggi Lupita, Terranova, Bracciolini e Montevarchi. Nel corso della notte sono state controllate 75 persone, 7 se uomini e una donna, coloro che sono stati trovati al volante sotto l'effetto di alcol e droga e dei quali è stata ritirata la patente di guida. Di questi 4 sono risultati positivi e stupefacenti e uno di essi addirittura aveva assunto sia marijuana che cocaina. Sul posto presenta anche il medico capo della questura di Arezzo che ha provveduto ad effettuare le analisi con il drogometro durante tutta l'operazione insieme al proprio team di tecnici.